Cosa pensa dell'azienda Dallai? È un'azienda che sta vivendo una nuova fase di sviluppo che con molto coraggio, nonostante la crisi a livello mondiale, ha deciso di fare molti passi in più e ha puntato sulla ricerca, sulla tecnologia e hanno investito negli ultimi anni veramente tanto. Come vede la Dallai oggi e come la vede nel futuro? Beh, oggi direi che è il primo costruttore mondiale di raccordi rapidi già da qualche anno. Nel futuro, non lo so, sta vivendo una fase adesso di espansione molto importante, quindi diciamo che non mi stupirei a vederla delocalizzata, soprattutto a livello logistico, in vari continenti. Cosa le piace di più nella Dallai? La capacità di guardare sempre alle novità e riuscire a sfruttare le conoscenze che hanno per entrare in nuovi settori. Tre parole per descrivere la Dallai? Dinamica, affidabile e familiare. Grazie.